Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Ineil tra gennaio e marzo sono state 194.106 con un aumento del 50,9% rispetto allo stesso periodo del 2021. Lo rileva l'Istituto nella Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, secondo cui le denunce di incidenti mortali nel primo trimestre sono state 189, così come in aumento le patologie di origine professionale denunciate 14.517. Tra i morti sul lavoro aumentano le donne e gli under 40, così come aumentano le denunce dei lavoratori italiani in calo quella dei comunitari.